Amici di Steel Fishing, sono incannato con una marmorata di circa 3 kg, sono in combattimento da circa più di un'ora e si è piantata lì in corrente e non vuole più uscire. Vediamo come va a finire. Andiamo a vedere che bestia ho tirato fuori. Ora la slamo con calma, ve la faccio vedere e poi come sempre il rilascio di queste spremi di tiratura. Questa in particolare è stata la trota che mi ha fatto combattere come un forsennato, sono sudato. Sono stato circa due ore. L'ho lamata in quella lama lì in fondo, è andata fino ancora in fondo sotto dei rami, sono riuscito a tenerla. E niente, ce l'ho fatta. Sarà salita circa una decina di volte. Sono troppo contento. Andiamo a vedere. Vai Bella, vai! Still fishing. E vai! D' vorrei D' vorrei Grazie a tutti